si si mi hai dato di seguirli ancora vivo ancora vivo questo è ancora vivo guarda che sta venendo, guarda che viene calpestato no no no, non so che tu stai ridotto, spostati c'è un agnello incastrato, secondo noi appena l'hanno caricato, nel momento del carico adesso è arrivata la veterinaria e l'ha addormentato giù? molto poco giù stop ok è è è è è è è è Grazie a tutti. Grazie a tutti.